Paolo Nicolai premiato con le riconoscimenti Premio Due Mondi nel meeting del Mediterraneo un premio che va a riconoscere quello che hai fatto malgrado la tua giovane età nel mondo del beach volley Sì, è stato un vero piacere essere premiato insieme a personaggi molto importanti dell'industria italiana dell'industria abruzzese e non solo credo sia un bene ma anche una responsabilità perché per cercare di continuare sia nella vita sportiva sia nella vita extrasportiva ad essere un punto di riferimento per i ragazzi Punto di riferimento anche con la tua scuola di beach volley per cercare anche di coinvolgere nel mondo dello sport i più giovani Sì, stiamo cercando insieme ad alcune società di pallavolo di far nascere un progetto importante sulle spiagge in modo tale da diffondere uno sport in forte evoluzione come quello del beach volley e cercare soprattutto di avvicinare sempre più ragazzi al mondo dello sport Mondo del beach volley che a novembre però non è fermo perché state preparando i prossimi appuntamenti della nuova stagione Sì, assolutamente sì, a differenza magari di altri sport come pallavolo, basket o calcio la nostra preparazione è un po' più lunga quindi abbiamo 3-4 mesi invernali in cui ci concentriamo sullo sviluppo fisico, tecnico e tattico e prepariamo quelli che poi sono tutti appuntamenti uno di seguito all'altro che ci aspettano durante l'estate e la nostra preparazione è un video è si Grazie a tutti.